Abbiamo scelto questo luogo per intitolare Piazza Salvatore Barbaro perché è il luogo in cui è avvenuto l'omicidio ed è giusto che chiunque passeggiando di qua possa ricordare ciò che era Ercolano, una città condizionata dalla camorra ma soprattutto passeggiando di qua chiunque potrà vedere ciò che sarà Ercolano quando terminerà questa splendida passeggiata archeologica lì dove prima c'era la camorra e veniva ucciso un ragazzo innocente domani ci saranno i turisti, ci sarà la bellezza, ci sarà il turismo, ci sarà la cultura e ci sarà la legalità La battaglia contro la camorra non la vincono soltanto con gli arresti, non la si vince soltanto con gli ergastoli e con le condanne la si vince con la buona politica e quindi queste attività non sono simboliche ma sono uno strumento fondamentale per tenere sempre alta l'attenzione Indietro non si torna e combattiamo contro ogni forma di illegalità